Una buona giornata a tutti voi, ben ritrovati cari telespettatori di Fano TV sul canale 17 tutte le mattine come sempre abbiamo l'appuntamento del mattino, quello con la lettura dei giornali, le atture dei quotidiani che facciamo puntualmente con il test screen da lunedì al sabato con il resto del Carlino, il Corriere Adriatico ed il Messaggero. Prima il Santo del Giorno, lo vediamo, oggi in realtà sono due, i Santi Filetto e Lidia, coppia di sposi. Il sole è sorto alle 5.58 e tramonterà alle 18.29. Che tempo avremo oggi? Oggi l'allerta della protezione civile delle Marche prevede ancora pioggia, pioggia nel corso della giornata, questa è l'immagine scattata dalla webcam dell'osservatorio meteorologico di Fano TV alle 7.28, mentre più sotto potete vedere sul lato sinistro, forse riusciamo ad allargarlo, vediamo se, ecco, il satellite con l'immagine delle ultime ore in animazione, vedete questo vortice. Allora andiamo sulla pagina adesso invece della protezione civile delle Marche per dare uno sguardo alle previsioni per oggi. Allora avremo cielo nuvoloso, molto nuvoloso, con rovesce temporali diffusi inizialmente sul Pesarese ed in successiva estensione al resto del territorio. Fenomeni in esaurimento dalla serata ad iniziare da nord, limite delle nevicate inizialmente sui 1.600 metri, in progressivo abbassamento fino a 1.200. Le temperature sono in diminuzione, i venti moderati, il mare è molto mosso. Per domani, sabato 28 marzo, invece il tempo sarà completamente diverso da quello di oggi con cielo sereno poco nuvoloso, le temperature in lieve aumento nei valori massimi e stazionari invece in quelli minimi, i venti sono di brezza. Per domenica viene confermata la giornata di bel tempo con cielo sereno, temperature in aumento e l'espansione di quest'alta pressione delle azzorre garantirà condizioni stabili e soleggiate almeno per la prima parte della settimana. Adesso andiamo a vedere i giornali. Cominciamo dalla pagina di Fano del Messaggero, che in evidenza parla della Fondazione Teatro. Niente chiusura, ma soltanto altri tagli. Il Comune valuta un'ulteriore riduzione dei fondi. Per il Presidente della Commissione Cultura, Francesco Torriani, la fondazione è utile. Il PSI ne fa, invece, sostiene Torriani, una questione di organigramma. A centro pagina, acquisti, crollo del 40%, la preoccupante analisi di confe esercenti. Anche attività un tempo stabili come i generi alimentari soffrono per un calo del fatturato. La nonna da uccidere, stiamo parlando di quella notizia che vi abbiamo dato l'altro giorno, di quei due, uno di Saltara, l'altro di Orciano, che avevano intenzione di compiere due omicidi, tra cui uno quello di uccidere la nonna di uno di questi due ragazzi. Allora, non ad uccidere, l'inchiesta si allarga. Proseguono gli accertamenti dei carabinieri dopo l'arresto dei due giovani che erano legati da un fatto diabolico. Sconcerto in paese, il sindaco di Saltara, Guccione, dice, siamo sorpresi e preoccupati. Questa coppia di anziani è una coppia di gran lavoratori. Gli investigatori stanno verificando ulteriori ipotesi e l'eventuale coinvolgimento di altre persone. Qua si parla anche della badante massacrata a Piobbico, il marito che è stato poi catturato in, credo in Russia, dove si era rifugiato, il 52enne, no, lui Nicolai Roset, 52enne, Moldavo, che ha ucciso Svetlana di 47 anni, ricorderete il corpo fu gettato poi nel fiume Candigliano, il movente era un movente di gelosia, il marito adesso alla sbarra, a Pesaro si è aperto il processo, ieri l'uomo ha incontrato i figli che non lo hanno mai abbandonato nonostante le accuse. Sorpresa, tornano i cantonieri a Pesaro, cantonieri di quartiere, saranno operativi da maggio, all'inizio saranno 7-8, poi forse 10, si occuperanno di pulizia dei cigli stradali, dell'erba e delle piste ciclabili. Ancora dal messaggero Delittoferri, Sabanov dice, Barry ha ucciso, il macedone scarica sull'altro imputato la responsabilità dell'omicidio, ero minacciato e non stavo bene, mi sentivo come sotto anestesia. Karim dice, ha fatto tutto Donald, aveva bisogno di soldi e girava sempre con la pistola, io sono stato stupido e ingenuo. Ancora dal messaggero, la politica con le regionali in primo piano, il PD Comi, il segretario all'assalto del governatore Spacca, Comi dice, continui i rinvii per il voto del bilancio in giunta, spero che ritorni presto in sede dai suoi viaggi di rappresentanza. Il governatore risponde, forse non ritiene che Vinitali ed Expo siano importanti, stia sereno, i conti li approviamo lunedì, gli uffici ancora non sono pronti. Intanto nasce area popolare, lunedì si riunisce la direzione dell'Udc, se non approveranno pettinari e viventi saranno fuori. Per quanto riguarda l'inchiesta della Guardia di Finanza sulle spese irregolari, sono stati sentiti Bugaro, Benatti, Mollaroli e Zinni. Andiamo ancora avanti sul messaggero, da Pesaro il marchio Pesaro cresce, politica, abitanti, cultura, insomma la super Pesaro verrebbe da chiamare, il capoluogo che verrà, un sindaco attivo, un candidato che è Ceriscioli, governatore favorito per diventare il capo della regione e con i comuni accorpati si va verso il record marchigiano dei 110 mila. Insomma, vedete in questa fotografia il candidato governatore Ceriscioli con il sindaco di Pesaro, Matteo Ricci. Andiamo e chiudiamo il messaggero leggendo in basso la prima pagina del quotidiano romano, l'inserto di Pesaro, già tante le pizze sospese, ma le chiedono ancora in pochi. Non so se avete mai sentito parlare di questa iniziativa, è un'iniziativa interessante, un'iniziativa bella che riguarda il sociale. Le pizze sospese funzionano così. In questo momento intanto va detto che sono soltanto due le pizzerie che hanno aderito a questa iniziativa. Ma in sostanza funziona così. Uno va in queste pizzerie che aderiscono a questo progetto che si chiama pizze sospese, prende le sue pizze, fa le sue ordinazioni, poi ne lascia una, due, tre, quelle che vuole, pagate per chi non ha soldi, per i meno abbienti. Ecco, allora, la situazione qual è? Abbiamo due pizzerie che hanno aderito, adesso una è di Montecchio e l'altra è di Pesaro, ci sono molti tranci di pizza pagati, ma evidentemente anche forse per una questione di dignità, un po' di vergogna se vogliamo, ancora non sono tanti quelli che vanno lì e dicono vorrei una pizza sospesa, cioè di quelle già pagate. Ecco, però c'è un'iniziativa che sta girando e che si spera possa in qualche modo prendere piede e prendere vita. Cambiamo giornale, andiamo adesso sul Corriere Adriatico. La pagina di Fano, Fondazione Teatro Il Piatto Piange, Marcheggiani fa i conti, ci sono solo 200 mila euro, dalla maggioranza tre ipotesi per uscire dal guado per il PD, pur critico in passato con l'istituzione, vi sono dei posti di lavoro comunque da preservare. Esonda l'Arzilla, danni alle spiagge, non c'è pace per i bagnini, già lavoro per la prossima stagione balneare, il pericolo dei detriti ancora impercorribili e allagati, i sottopassi che danno accesso alle zone libere dell'arenile. Andiamo sull'altra pagina del Corriere, da Cartoceto, completato il piano di asfaltatura delle strade, soddisfatto il sindaco di Cartoceto, l'assessore Letizia dice grazie al contenimento della spesa abbiamo potuto stanziare 220 mila euro. C'è ancora molto da fare, ma in questi nove mesi di governo abbiamo realizzato un grande balzo in avanti. E ancora dalla pagina di Senigallia tiene sempre banco la vicenda di quel barista che ha fisso qualche settimana fa un cartello con scritto vietato l'ingresso ai politici. Stiamo parlando di un esercizio commerciale, una pizzeria, un bar pizzeria. Assurdo rivolgersi al prefetto, post di Beppe Grillo sul bar off limits per i politici, il sindaco di Senigallia Mangialardi risponde e dice ho solo segnalato i furti. Adesso non resta che leggere il resto del Carlino e partiamo da questa enorme frana vicina che è caduta vicino al Beato Sante. In realtà sì, siamo a poche centinaia di metri perché questa frana è avvenuta al confine veramente tra il comune di Serrungarina e quello di Monbaroccio dove c'è appunto il Beato Sante. E isolata, come dicevamo anche ieri che ha seguito il nostro telegiornale, eravamo in collegamento diretto, isolata è questa nonnina di 86 anni che è rimasta con il figlio in casa perché poi l'ha raggiunta passando qua sopra, guardate vi faccio vedere, questa è la frana enorme che è scesa giù, evidentemente poi ecco si è dovuti passare qui sopra per raggiungere una casa che sta a qualche centinaia di metri più là. In tutto le case sono tre, qui sotto praticamente qui c'è la strada, ma ovviamente la strada è stata interrotta dalla frana che è andata verso il basso, vedete qui ci sono le ruspe che anche questa mattina stanno cercando di liberare praticamente tutta la terra e creare di nuovo il passaggio, creare di nuovo la strada. Io resto qui, ha detto la nonnina, ho tutti i miei animali e tra l'altro proprio ieri il sindaco Marta Falcioni ci raccontava che questa nonnina non ne voleva assolutamente sapere di andare via, ma nemmeno durante il nevone, quindi è rimasta lì anche quando c'era la neve alta due o tre metri. È crollata anche la strada di Focara, in realtà è stata solo ricoperta, allarme rientrato anche se per ora alla spiaggia non si può arrivare. Quindi dunque le fasi del maltempo, poi dalla pagina di Fano invece la storia di questo giovane che è andato ad un colloquio per lavoro e gli hanno chiesto 750 euro al mese. La disavventura di due fanesi, l'annuncio diffuso dall'informa giovani. Guido e Giovanna vittime della stessa vicenda, incontro in un hotel di Pesaro. Sulla Profilglas fanno 5 stelle e dicono non vogliamo abbattere il capannone e poi qui sopra un appuntamento a cent'anni dalla Grande Guerra, incontro del Lions. Il resto del Carlino invece ha intervistato, sempre tornando alla nonnina che doveva essere uccisa da questi due balordi. Insomma la nonnina difende il nipote, dice Vincenzo è per bene, non credo che volesse farmi una cosa del genere. Parla alla nonna e non crede alle accuse rivolte al nipote. Il ragazzo è stato arrestato, è sempre stato molto affettuoso, dice sempre questa donna nei miei confronti, per cui non riesce a capacitarsi. Insomma, mentre qui vedete la villetta di Calcinelli di Saltara dove abita la signora Livia Bartolini, nonna di Vincenzo Mancani, che è appunto questo ragazzo qui a fianco, dove si sarebbe dovuto consumare l'omicidio ai suoi danni. La pagina di Urbino, Micheli mette nei guai mezza Urbino, altra richiesta di rinvio a giudizio, coinvolti pure medici e poliziotti, per riavere la patente ritirata si sarebbe fatto aiutare in ogni modo, oltre la legge. Mentre qui sotto, guardate, ecco, questa è un'immagine più aggiornata dell'uomo che ha ucciso la moglie e che poi l'ha gettata sul fiume, l'imputato Nicola Roset all'udienza di ieri a Pesaro. È un'immagine aggiornata rispetto a quella che vi abbiamo fatto vedere, che solitamente abbiamo memorizzato in questi mesi. Il marito Lasbar si è aperta ieri l'udienza contro il Moldavo di 52 anni, i figli della vittima credono al padre e dunque sono convinti della sua innocenza. Il Foglia, il Foglia una piena dietro l'altra, il fiume Foglia e a Mercatale si passano notti in sonni, la diga è scaricato fino a 135 metri cubi, nella notte nuove piogge, in alcune località sono caduti oltre 70 mm di pioggia, le previsioni parlano di tutt'altro e staremo a vedere se la giornata di oggi passa senza far troppi danni. Torniamo e chiudiamo con la pagina di Fano, il PSI difende la fondazione Teatro, attorno al Teatro un progetto di produzione e ospitalità, Mirko Pagnetti dice è necessario revisionare lo statuto, i socialisti prendono le distanze da Sinistra Unita. Direi che per oggi è tutto, grazie per la vostra cortese attenzione, vi auguro una buona giornata e vi do appuntamento questa sera alle 20.30 con il nostro telegiornale, arrivederci. Grazie a tutti. Grazie a tutti.